Un annuncio meraviglioso! Ormai da circa sette mesi Lavinia Mauro e Alessio Corvino, una delle più belle coppie nate proprio a uomini e donne, fanno coppia fissa, dividendosi da Caserta, dove abita lui, e da Roma, città di Lavinia. Proprio da poco è arrivato un grande annuncio, è stata proprio Lavinia a dire con le lacrime di gioia che ha terminato i suoi esami universitari. La ragazza, sono super felice e vi posso soltanto dire di non mollare mai. La ragazza ha potuto contare sull'aiuto della sua famiglia e naturalmente del suo amore a Alessio, che le sono stati sempre vicini. Loro sono stati la mia forza, ha detto Lavinia. I due ragazzi hanno festeggiato in un locale entrambi felicissimi di questo grande traguardo. Lavinia si laureerà in scienze politiche alla Luiz di Roma.